L'origano, origanum vulgare, non è soltanto una semplice erba aromatica, da utilizzare in cucina, ma un vero e proprio medicinale naturale, a cui ricorrere, per mantenere a lungo la salute, per la prevenzione delle malattie. Contiene fenoli, vitamine, e sali minerali, tra cui troviamo ferro, potassio, calcio e manganese, che lo rendono un rimedio ed un integratore naturale efficace. L'origano, può essere facilmente coltivato nell'orto, o in vaso. L'origano è un antibiotico naturale, utile a proteggerci dalle malattie respiratorie. Ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche, e antispasmodiche. L'olio essenziale contenuto nell'origano, è il più potente antisettico naturale fino ad ora conosciuto, almeno per quanto riguarda, le essenze estratti dalle piante. La sua efficacia contro lo stafilococco, lo rende molto utilizzato nell'aromaterapia, soprattutto per la cura delle malattie, che interessano le vie respiratorie, e che possono colpire i bronchi, i polmoni e la gola. L'olio essenziale di origano, può essere utilizzato per i suffumici, con acqua bollente e di carbonato, in caso di raffreddore, e di naso chiuso. L'olio essenziale migliore, è estratto da origano, proveniente da agricoltura biologica. Ed è puro al 100%. Le proprietà analgesiche dell'origano, lo rendono un rimedio efficace, contro i parassiti intestinali. A giocare un ruolo fondamentale, contro funghi e parassiti intestinali, sono le proprietà analgesiche, e antisettiche di questa pianta aromatica, e officinale. Contro i parassiti, viene impiegato l'estratto di origano, che deve essere assunto, seguendo le indicazioni di un esperto. L'origano ha proprietà anti-cancro. Gli esperti, hanno evidenziato la presenza all'interno dell'origano, di una sostanza killer, efficace contro il cancro alla prostata. Questa erba aromatica, contiene un componente, che induce le cellule cancerogene, ad autodistruggersi. La sua azione, è stata testata, per quanto riguarda il tumore alla prostata, una delle patologie, che maggiormente colpisce la popolazione maschile. Possiamo considerare l'origano, tra gli alimenti, di cui sfruttare le proprietà antiossidanti. L'origano, contiene infatti vitamina C, una sostanza che permette all'organismo, di sviluppare una maggiore resistenza, sia alle infezioni, che agli agenti portatori di infiammazione, e ai radicali liberi. Una delle principali cause, dell'invecchiamento prematuro, delle cellule del nostro organismo. L'origano è un analgesico naturale, utile nella riduzione del dolore. È ritenuto particolarmente efficace, in caso di mestruazioni dolorose. È possibile preparare una tisana all'origano, contro i dolori mestruali, sotto forma di infuso. È sufficiente, lasciare in infusione un cucchiaino di foglie d'origano essiccato, in una tazza d'acqua bollente, per 10 minuti, per poi filtrare il liquido, e bere ancora caldo, una volta al giorno. Le proprietà anticellulite dell'origano, permettono di impiegarlo per la lotta all'inestetismo stesso, e ai disturbi, di circolazione sanguigno-linfatica, che possono provocarlo. È possibile preparare un infuso a base di origano, da bere una volta al giorno, utilizzando mezzo cucchiaino di foglie essiccate, per ogni tazza, da 200 millilitri d'acqua. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, e iscriviti al mio canale.